La spedizione azzurra ha portato a casa la terza medaglia d'oro ai giochi di Rio, l'ha vinta Niccolò Campriani nella carabina a 10 metri, dominio in finale per il tiratore fiorentino, già triunfatore a Londra 2012 dai 50 metri. Argento per Giovanni Pelliello nel tiro a volo, vince il croato Glasnovic, bene anche il setebello, gli azzurri della palla nuoto battono la Francia 11-8 nel secondo match del girone dopo la vittoria sulla Spagna all'esordio. Male invece di tal volley femminile, le ragazze della pallavolo battute dalla Cina 3-0 dopo la sconfitta con la Serbia.